Eli, tu non la puoi portare a casa, l'avresti portata a casa questa foto? Beh, un po' un po' l'avrei nascosta sotto il letto. Ciao Nathan! L'avresti nascosta sotto il letto. L'avresti nascosta sotto il letto. Ciao Nathan! Allora, prima che Pierpaolo se ne vada, io voglio fare insieme a lui la domanda di rito a te Elisabetta. Ed è la domanda che chiaramente ci facciamo da quando hai detto che avresti lasciato la casa. Stasera lascerai definitivamente la casa del grande fratello? Sì, Alfonso. Sì, benissimo. Allora io mi ricordo però, intanto ti aspetto qua in studio, poi adesso avrai modo di salutare i tuoi compagni. Mi ricordo che tante puntate favo, e lo sapete che io sono un romanticone, tu facesti una promessa a Pierpaolo. E mo' ti frego, amore! E mo' ti frego! No, aspetta, se fossi uscita... Non me la ricordo, qual'era? Tu hai detto, quando esco ti bacio sul serio. Ma era un mese e mezzo fa se fossi uscita in nomination, siamo amici! Baccio! Oh, va bene! Facciamo un altro quadro! Potete tornare dagli altri salone! Suscritorio giudicano! No, vai! No, vai! No, vai! Tyированale! Grazie a tutti